Ben ritrovati gentili telespedatori, nuova edizione del telegiornale del Veneto orientale. In apertura subito parliamo di cronaca, andiamo subito a sentirci allora il primo servizio. Questo è proprio il punto. Adesso il G20S deve fare un salto di qualità importante. Abbiamo ormai capito che il mondo va verso la direzione dei grandi numeri. Noi come costa italiana rappresentiamo dei numeri importanti, ecco che adesso dobbiamo cercare di darci una governance, cercare di darci dei principi, delle filosofie e degli argomenti importanti da portare avanti. Questo però deve essere poi fatto da un gruppo che riesce ad organizzare quelli che sono tutti i nostri pensieri. Noi non possiamo trovarci ogni volta qua e ripetere le stesse cose. Adesso bisogna che qualcuno si occupi di fare sintesi di quello che noi diciamo e portare le nostre istanze a Roma, cioè ai tavoli che contano. Lo è sempre stato. Noi italiani facciamo fatica a metterci assieme, a condividere le cose, ma oggi in questo momento di crisi indotta, non crisi di sistema ma da crisi indotta dal Covid, come tutti sappiamo, è ancora più importante. Oggi i numeri che rappresentiamo, la massa critica è importante, è quella che poi ci aiuta a poter portare le nostre istanze sui tavoli che contano, altrimenti nessuno ci riceve. Noi possiamo essere cavallino tre porti con sei milioni e rotti di presenze, però da soli cominciamo a contare poco. Dobbiamo metterci assieme a tutti gli altri, fare massa critica e dare molta evidenza alle problematiche che ci contraddistinguono, che guarda caso, oggi l'abbiamo capito per l'ennesima volta, le problematiche sono comuni a tutti. La linea comune c'è assolutamente, perché ripeto, le problematiche sono comuni a tutti, cioè noi abbiamo dei problemi sulla costa italiana che sono abbastanza comuni. Io credo che nel nostro tavolo stiamo cercando di identificare come fare, come poter suggerire il modo di comunicazione a chi poi decide che sono i tavoli della politica. Infatti l'altro tavolo di questo si occupa. Noi speriamo e crediamo, domani ci sarà il momento di sintesi, che appunto la politica con la parte amministrativa e con la parte nostra, quindi di imprenditori, si riesca poi a fare sintesi, che è quello che poi conta alla fine. Quindi noi siamo molto fiduciosi. G20S è importante, deve aumentare la sua importanza e il suo potere, diciamo, di lobby all'interno dei tavoli che contano, sui tavoli che contano. Dopo 30 anni esatti il servizio della Ulse 4, l'ingegnere Francesco Baradello è andato in quescenza. Il direttore dell'Unità Servizi Tecnici Porto Uruarese ha gestito i principali progetti di sviluppo e di manutenzione degli edifici durante le varie fasi di evoluzione dell'azienda sanitaria, della Ulse 14 Porto Uruarese, poi diventata Ulse 10 con l'accorpamento a quella sandonatese e infine nell'attuale Ulse 4. È nel Porto Uruarese che l'ingegnere Baradello ha curato i lavori più importanti, dei vari stralci di ampliamento dell'ospedale San Tommaso dei Battuti, alla realizzazione del distretto sociosanitario di San Michele a Tagliamento, ma anche l'edificazione del centro polifunzionale per la riabilitazione psichiatrica nella località di Fossalato, la ristrutturazione del centro di salute mentale, la realizzazione della piattaforma per l'atterraggio dell'isoccorso all'ospedale San Tommaso dei Battuti e molto altro. All'ospedale di San Navaradello ha progettato anche il nuovo monoblocco ospedaliero, la realizzazione della nuova sala Gessi, la riqualificazione di altre varie unità operative, a Jesolo tra i vari lavori la progettazione della nuova piastra poliambulatoriale ospedaliera. Franco Baradello si è sempre distinto per il proprio impegno e professionalità nel realizzare i più importanti progetti di ampliamento e di ristrutturazione nell'azienda sanitaria, adeguando le strutture ai bisogni di cura mutati nel tempo, ha commentato il direttore generale Carlo Bramezza, a nome dell'azienda che rappresenta un doveroso grazie per il lavoro svolto nei suoi 30 anni di attività. Paola Roma, presidente della conferenza dei sindaci dell'Opitergino Mottense e anche sindaco di Ponte di Piave. Oggi è una giornata mondiale del cuore, tu sei rappresenti i sindaci di questo territorio, l'associazione Amici del Cuore rappresenta i cittadini, ecco un evento importante anche in tempo di Covid, ma loro hanno voluto esserci lo stesso. Certo, ringrazio l'associazione Amici del Cuore, in particolare il presidente Loriano, proprio per la loro attività capillare che facevano i nostri comuni era fondamentale per prevenire quelle patologie cardiovascolali. Li ringrazio perché sono un punto di riferimento per il nostro territorio, ma soprattutto in questa modalità di contingentamento, quello su cui stanno lavorando e quindi anche di queste videoconferenze per i nostri cittadini sono fondamentali, fondamentali perché chiaramente nell'attività di prevenzione vanno a braccetto con quelle che sono le linee guida della nostra azienda sanitaria e questo lo dico per tutta l'attività che loro hanno fatto e garantiscono a tutti i comuni, non solo del nostro distretto dell'azienda ULS2, ma proprio per tutta l'azienda ULS2, quindi sia per il distretto non solo di Treviso, ma di Pieve e anche di Asolo e quindi li ringrazio per questa attività che comunque svolgono in un luogo anche particolare che è l'Oras di Motta, che rappresenta il nostro punto di vista di cardiologia specialistico sul territorio, ma fondamentale anche questo per tutte le nostre comunità, per l'attività riabilitativa. Insomma un'importante associazione, ecco tu come Presidente di Conferenza dei Sindaci cosa fate per la sanità proprio a livello dei 21 comuni dell'Opitativo? Allora io ringrazio chiaramente l'azienda sanitaria, in particolare il Direttore Generale Dottor Benazzi che insieme con noi sindaci ha ripreso proprio nelle attività che facciamo e siamo partiti proprio da Motta di Livenza alla Tomitama di Boccassini che è la casa di riposo di Motta di Livenza per andare capillarmente a verificare le nostre strutture. Li ringrazio perché gli specialisti dell'azienda sanitaria, in particolare il Dipartimento di Prevenzione è intervenuto in questa formazione che è stata fatta non solo per i centri estivi, quindi più di 3.000 volontari, ma poi anche alle nostre scuole con l'attività congiunta col provveditore degli studi sui 4.200 insegnanti e oltre a questo anche tutta quella che è stata l'attività proprio di prevenzione che è stata fatta anche per le società sportive in collaborazione con la medicina sportiva e il Dipartimento di Prevenzione. Chiaramente nei nostri bilanci sociali è molto importante quella che è l'attività non solo per le nostre strutture che sono le nostre case di riposo, ma anche per i disabili, per la parte appunto degli anziani che si diceva, ma anche per la salute mentale e su questo ci sono diverse progettualità che si stanno evidenziando e anche nei piani della tossicodipendenza sulle quali stiamo andando a lavorare grazie al contributo che la Regione Veneto ha dato anche alla nostra azienda sanitaria che permette da una parte la parte di prevenzione, che è quella che spetta proprio la nostra azienda sanitaria e i nostri territori su cui paghiamo una parte del bilancio sociale, ma anche quella di repressione in cui già la Prefettura ci ha dato la disponibilità per lavorare all'interno dei nostri tabelli. Quindi davvero un'attività a 360 gradi che chiaramente come sindaci stiamo portando avanti a braccetto con l'azienda sanitaria. Emiliano Teso, consigliere comunale di minoranza di Fratelli d'Italia nel Comune di San Michele al Tagliamento. Ecco, a pochi mesi dal rinnovo del Consiglio voi avete creato il gruppo Fratelli d'Italia. Ecco, quali sono state le motivazioni per cui a pochi mesi così avete creato il gruppo, ma soprattutto che giudizio date a questo punto dell'amministrazione Codognato? La nascita del gruppo consigliare di Fratelli d'Italia è una scelta logica e naturale che segue l'ottimo risultato ottenuto alle elezioni regionali. Ricordo infatti che nel Comune di San Michele abbiamo ottenuto circa il 9% dei consensi. Volevamo dare inoltre un forte segnale di unità della minoranza perché è chiaro che il giudizio nei confronti di questa amministrazione non può essere che negativo. Ormai siamo di fronte a un'amministrazione ferma, ferma in tutti i settori, partendo dai lavori pubblici, opere che vengono procrastinate di anno in anno ma non partono. Il settore urbanistica è bloccato per una semplice pratica, i tempi sono biblici. Per non parlare ormai della gestione del personale. Abbiamo un personale che appena ne ha la possibilità se ne va dal Comune e quindi è fondamentale costruire un'alternativa politica che alle prossime elezioni sia in grado di prendere in mano una situazione veramente critica perché ci vorrà del tempo ma costruire qualcosa di importante e rilanciare il Comune di San Michele dal tagliamento non solo nel Portoguarese ma anche nella provincia di Venezia. Meno flussi da e verso l'Austria, Slovenia e Croazia. Gli effetti del Covid-19 si sono fatti sentire sul turismo e di riflesso anche sull'autostrada. Sulla lette di autovie venete il volume del traffico leggero nel periodo luglio-agosto è calato del 16,73% rispetto allo scorso anno. Quello pesante invece progressivamente è avvicinato ai flussi del 2019 con un meno 7,59%. Complessivamente rispetto ai 9.708.221 transiti della stagione passata, a luglio e agosto sono stati registrati quasi 8.300.000 passaggi. Ma questa estate è stata anche la prima con la terza corsia percorribile dal Visopoli a Golarse. I risultati sono buoni, testimoniano come gli stessi dati e le percentuali lo confermano. Gli incidenti totali nel tratto Palmanova-Porto-Gruaro sono calati di oltre il 50%, passando dai 53 del luglio-agosto dello scorso anno ai 25 della stagione estiva, da poco archiviata. Ciò che è avvenuto a mancare è soprattutto il traffico dei turisti stranieri. I transiti totali provenienti da confine di Stato di Ugovizza verso i caselli delle località balneari Friulana e Venete hanno fatto segnare un meno 40%. Ad attutire maggiormente i contraccolpi di questa estate anomala sono stati i caselli di Porto-Gruaro, meno 2%, in direzione Bibione-La Tisana, meno 5%, in direzione Lignano, mentre segni maggiormente negativi hanno fatto registrare i caselli di Sastino verso Carle con un meno 16% e San Donati-Piave verso Jesolo, meno 13%. Restrizioni per l'emergenza sanitaria si sono fatti invece sentire in maniera più evidente sui flussi di traffico diretti verso le località slovene e croate. Se è vero che il traffico è diminuito è altrettanto vero che l'apertura della terza corsia nei fine settimana nel tratto tra Alvisopoli e Gonarse si è rivelata determinante per evitare quei rallentamenti e stop and go di auto che spesso assieme alle distrazioni e al mancato rispetto delle distanze di sicurezza sono cause di incidenti. Nei weekend abbiamo avuto picchi massimi di 2300 transiti all'ora, spiega il direttore di esercizio di Autovie Venete Davide Sartelli, che grazie alle tre corsie non hanno creato code. Se ci fossero state ancora le due corsie questi flussi avrebbero sicuramente creato qualche problema. Il dato più rassicurante è quello relativo agli incidenti, 88 totali su tutta la rete rispetto ai 138 dello scorso anno. Di questi 25 sono avvenuti nel tratto Palmanova-Porto-Gruaro rispetto ai 53 dell'estate 2019. In un clima cordiale nel rispetto delle normative anti-covid è stata celebrata a Sumaga una messa per la festa del padrono dell'arma delle trasmissioni San Gabriele. Alla manifestazione ha partecipato una rappresentanza dei soci e consorti e durante la Santa Messa sono stati ricordati colleghi recentemente scomparsi. Una occasione per insaldare i vincoli di appartenenza al sodalizio come sottolineato dal presidente Giuseppe De Boni della locale sezione Anget di Porto-Gruaro. A Don Giuseppe Liut, parroco di Sumaga, ci ha ospitato nella sua splendida abbazia e abbiamo celebrato questa festa del Santo nostro Patrono. Purtroppo la partecipazione è stata ridotta a causa Covid e comunque è stata molto molto partecipata e molto sentita. È una tradizione che continua e speriamo che continui anche per i prossimi anni a futuro. Ecco, un momento comunque in cui l'Associazione celebra appunto il Santo Patrono ma anche un momento sociale per ritrovarsi anche se queste restrizioni e possiamo anche dire un po' il mondo dell'associazionismo in questo momento è un po' in difficoltà, un po' in crisi. Mancano soprattutto i giovani. Certamente sì. La cosa che manca veramente, come diceva lei, è la gioventù. Purtroppo l'anagrafe è tremenda. Ci guardiamo in faccia e vediamo che siamo tutti quanti anziani. Io faccio anche l'appello qui, se permette, a tutti i giovani, quelli che hanno fatto il militare nelle trasmissioni, nel genio, di avvicinarsi all'associazione. L'associazione è come ritornare ragazzi di una volta, dove si scambiano le idee, i ricordi ed è sicuro una cosa bellissima. Ecco, speriamo che vengano, perché anche come Presidente che facciamo le riunioni con gli altri Presidenti, tutte le associazioni d'arma hanno questo fattore comune, la mancanza di giovani. Ecco, l'associazione si ritrova anche in una sede in Viale Trieste. Abbiamo un'associazione in condivisione con l'UNSI, l'Unione Stubiciali in congedo e l'artiglieria, in Viale Trieste, al 169B, dove ci facciamo le riunioni, abbiamo un ufficio e coloro che li volessero avvicinare si possono recarsi anche lì. Troveranno sempre qualcuno a riceverli, a parlare, a spiegare le modalità di partecipazione, eccetera. A termine della messa, i soci e i consorci si sono ritrovati insieme a tavola per un convivio sociale e la consegna dei attestati di merito. Abbiamo anche un attestato per il signor Bellocco, Gianni, che anche lui dopo 20 anni è un socio. Siamo insieme al sindaco di San Michele Tagliamento, Pasqualino Codognotto e a Mauro Ravanello, in occasione della chiusura della sua macelleria dopo 100 anni di attività. ecco, il sindaco lo può presentare, guardi, faccia lei il cronista. Allora, lo faccio volentieri perché Mauro è una splendida persona, sia come professionista che come uomo e quindi lascio lui chiudere questa nostra comunicazione, ringraziando anche la vostra tv per essere sempre tra i cittadini e quindi Mauro, cosa dire di questa bella giornata? Un grande grazie a tutti, ho degli amici splendidi, dei clienti favolosi, è un paese bellissimo, è un sindaco fortissimo. Grazie a tutti, è commovente questo momento. Grazie, grazie, grazie. Grazie Mauro, se posso aggiungere una cosa a questa, io ho saputo che delle signore già avanti con l'età, clienti da sempre, sia dei suoi genitori, che forse anche del nonno, ma l'età bisogna fare i quattro conti, si sono davvero emozionate quando sono venuti a sapere che chiudi l'attività, no Mauro? Hanno pianto con me, hanno pianto con me, è vero, grazie, grazie. Gli scatti dal territorio con Vinicio Scortegagna. I nostri servizi, i nostri live li trovate sulla pagina Facebook di Media24, ci fermiamo con questa edizione, torneremo con le altre nel corso della giornata. Rimanete con noi, alla prossima.